Il pupo dell'edizione 2023 del Carnevale di Fano porta il volto dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti. La caricatura è stata realizzata dalla carrista Anna Mantovani. Anna Mantovani, oggi si presenta il pupo, il carro allegorico di apertura del Carnevale. Che cosa viene rappresentato e qual è la figura centrale? Allora, la figura centrale del carro è Samantha Cristoforetti. Abbiamo deciso di farle un omaggio in quanto è una super astronauta italiana e il carro la rappresenta mentre fa un balzo dal pianeta Terra e raggiunge l'universo. Nell'universo incontra in questo caso la mano di Dio che sarebbe un richiamo alla Cappella Sistina, la famosa creazione di Adamo di Michelangelo. Solo che in questo caso invece di creare Adamo Dio incontra la Samantha Cristoforetti. E quindi volevo dare un significato un po' femminista dove invece della creazione di un uomo arriva prima una donna e anche giocare un po' con questa eterna battaglia che c'è tra scienza e religione. Che cosa troveremo a contorno nel carro? Allora, a contorno del carro abbiamo numerosi pianetini a rappresentare l'universo e moltissimi colori. Credo che ci sia anche una mascherata a terra molto bella e quindi vi aspettiamo numerosi al Carnevale di Fano. Grazie.